Cara Ronnie, ti prego, credimi, non sei stata tu la causa di quello che è successo tra tua madre e me. Spero che la prossima estate ci aiuterà a riavvicinarci. Papà! Ragazzo mio! So che sei di New York. Che ci fai qua giù? Mia madre ha spedito me e mio fratello da mio padre per l'estate. Guarda, c'è il bacon. Non fai colazione? È vegetariana. Che cosa ridicola. Probabilmente ne parlerei con un'amica, se qui ne avessi una. Oh, vuoi parlare? Sì. Parliamo? A volte devi stare lontano dalle persone che ami. Ma non significa che le ami di meno. A volte questo te le fa amare ancora di più. Non fare quel sorriso, fa venire i brividi. Il mio sorriso fa venire i brividi. Vediamo? Un po' sì.